Linea Oceano Itaca, la vasca adatta a tutti gli spazi e a tutte le tasche Bali, la vasca ad angolo che si adatta ad ogni spazio E ancora Capri, con le sue linee eleganti Samoa, piccola nelle dimensioni ma grande nella sicurezza E Tonga, la soluzione ideale per ogni tipo di bagno Tutte progettate e prodotte da noi in Italia Con particolare cura alla qualità dei materiali impiegati I risultati parlano per noi e se da anni siamo presenti sul mercato I motivi sono molti Ad esempio la nostra riconosciuta affidabilità Sia in termini di personale che di prodotti E soprattutto la nostra consuetudine a fornirvi Non una vasca qualsiasi Ma quella su misura Sì, quella su misura delle vostre esigenze Infatti voi potreste essere alti, bassi, magri, in sovrappeso O avere uno specifico problema di deambulazione Alcune aziende vi propongono dei prodotti da catalogo Ma noi, grazie alla nostra esperienza Sappiamo che ciò non è possibile Ecco, perché chiamando il numero che vedete in sovraimpressione Verrà a casa vostra, gratuitamente e senza impegno Uno dei nostri esperti consulenti Per trovare con voi o con i vostri cari La soluzione ideale Ho sentito che ci sono dei contributi regionali A chi mi posso rivolgere per averli? Signora Rosa, pensiamo a tutto noi Inoltriamo la pratica alla regione La monitoriamo fino all'ottenimento del contributo Che può arrivare fino al 50-60% di quello che si spende La mia mamma, per problemi di salute Ha bisogno di una vasca dove possa stare seduta Come su una sedia Essendo un po' robusta, però Ha bisogno di spazio per entrare Non di quelle piccole aperture che si vedono in giro Da quelle porticine non c'entrerebbe mai Le vasche della linea Oceano Hanno le porte più grandi, vero? Certo, signora Grazia Come può vedere Le porte delle vasche della linea Oceano Sono ampie Vanno dai 70 cm agli 85 cm Questo per permettere un facile accesso alle persone Che devono entrare e uscire E adesso? Vediamo e sentiamo le testimonianze di coloro Che hanno già detto sì Ad una vasca della linea Oceano Quando è cominciata questa malattia Che mi causa qualche problema di movimento Beh, anche le cose più semplici Sono diventate più difficili Persino fare il bagno, la vasca È diventato per me un limite insormontabile E poi finalmente mio padre mi ha regalato la vasca Samoa E allora tutto è diventato più semplice Non so come ma ho ritrovato la mia indipendenza E ho riscoperto il piacere di fare il bagno come quando mi pare Sono qui per parlarvi delle vasche della linea Oceano Quelle vasche con lo sportello per anziani e disabili Io personalmente ce l'ho da circa tre anni E vi assicuro che va benissimo Perché gli anziani disabili possono farsi il bagno tranquillamente con sicurezza Inoltre i consulenti della linea Oceano Mi hanno aiutato a fare tutte le pratiche per il rimborso della regione Nel mio caso ho avuto il 55% Quindi oltre a essere molto contenta Perché faccio il bagno veramente in sicurezza Ho speso veramente poco Ho visto la pubblicità della linea Oceano in televisione circa due mesi fa Mi è sembrato molto buono, molto valido E quindi ho deciso di parlarne con mia nonna E in seguito dopo una telefonata è uscito un consulente per un sopralluogo in casa E siamo rimaste molto soddisfatte della chiamata e della scelta Ma vediamo insieme le caratteristiche e i vantaggi legati all'utilizzo di una di queste vasche Iniziamo con l'apertura della porta che avviene rigorosamente verso l'esterno fino a 180 gradi Questo è un particolare da tenere in considerazione Infatti Linea Oceano vuole offrire ai propri clienti un prodotto di qualità Che renda davvero più facile fare il bagno ad anziani e disabili L'altro aspetto molto importante che Linea Oceano considera Quando progetta queste vasche di alta qualità È rappresentato dalla dimensione della porta Sempre da 70 a 85 centimetri Mai di meno In questo modo l'entrata e l'uscita dalla vasca Sarà sempre effettuata in totale comodità e sicurezza E adesso parliamo di comodità Come potete vedere seduta alta e ampia Leggermente reclinata all'indietro In modo tale che la persona sia appoggiata bene con la schiena E non possa mai scivolare in avanti Un incavo in mezzo alla seduta Che serve per l'igiene intima Stando naturalmente seduti Quindi senza il pericolo di doversi alzare Maniglioni che servono, aiutano molto la persona Nell'entrare e nell'uscire dalla vasca E totale assenza di barriere architettoniche Come potete vedere io ho ancora i piedi fuori dalla vasca Mi siedo, sono già dentro la vasca Giro le gambe in questo modo Chiudo la mia porta così Faccio il mio bagno Quando devo uscire apro la vasca Mi aiuto con il maniglione o con questo Metto i piedi sul pavimento E sono già fuori Quindi totalmente senza barriere architettoniche E ancora i pavimenti delle vasche Tutti rigorosamente antiscivolo Studiati espressamente per darvi il massimo della sicurezza Anche quando uscite con i piedi bagnati Sono veramente tanti i motivi per dire sì A una di queste vasche Quindi chiamate subito Per chiedere la visita gratuita e senza impegno Di un esperto consulente Linea Oceano Che vi consiglierà la vostra vasca su misura Oltre a parlarvi di rate e di contributi regionali Fino al 60% Chi amate? Sono proprio stanca di avere il problema Di entrare e uscire dalla vasca E ho anche la paura di scivolare E di farmi male Pertanto ho pensato a risolvere il problema Con la vasca della Linea Oceano Però voglio essere tranquilla Quando chiudo la porta Non è che esca dell'acqua, vero? Certo signora che può stare tranquilla Le nostre vasche sono collaudate Una per una Per far sì che lei stia tranquilla Che non ci siano perdite Che non ci siano pericoli All'interno della vasca E che sia comoda e confortevole Per il suo utilizzo La mia mamma per problemi di salute Non riesce più ad utilizzare la vasca tradizionale Fa fatica ad entrare ed uscire Ci serve quindi la vasca con la porta Ma vorrei chiedere una cosa Quanto tempo la vasca della Linea Oceano Impiega a riempirsi d'acqua E poi a svuotarsi per poter uscire? Signore, in pochi minuti la vasca si riempie E lei sarà immersa nell'acqua fino alle spalle E in altri tanti pochi minuti La vasca si svuota E lei potrà uscire E con le vasche della Linea Oceano Avrete a disposizione Tutta una serie di accessori ad optional Come la rubinetteria con miscelatore manuale O con colonnina L'impianto idromassaggio con 12 bocchette Lo schienale riscaldato E ancora i maniglioni Importantissimi Sia a bordo vasca Che a parete Che permettono una più agevole e sicura entrata E uscita dalla vasca E questi sono solo alcuni Degli accessori a disposizione Con le vasche della Linea Oceano Tutto è stato pensato Progettato e realizzato Per darvi il 100% di sicurezza E comodità Quindi chiamate subito Per assicurarvi il meglio Della produzione italiana In fatto di vasche con la porta Vi ostinate ad utilizzare la vecchia vasca? Quella in cui entravate anni fa Quando eravate più giovani O quando non era ancora subentrato Quell'acciacco o quel problema specifico Allora vi dico Attenzione Perché il posto più pericoloso della casa È il bagno E allora Dopo una vita di lavoro O dedicata alla famiglia È giusto regalarsi la possibilità Di entrare ed uscire dalla vasca In totale sicurezza Per poi concedersi Un bel bagno rilassante E se non siete voi Ad averne bisogno Vi dico Di pensare alle persone care Un pensiero utile Un pensiero protettivo Che si concretizza Attraverso questo numero di telefono Da chiamare subito Sì Chiamate adesso E prenotate la visita Di un nostro esperto consulente Che grazie ai tanti anni di esperienza Fornirà anche a voi La vasca su misura Delle vostre esigenze E adesso Vediamo e sentiamo insieme Una serie di testimonianze verità Di coloro che hanno già detto sì Alle vasche Linea Oceano Adesso quando mio padre Viene a casa per darmi una mano E si rende conto Che non ho più bisogno di lui Per fare il bagno Alla fine finisce che La utilizza pure lui La vasca Samoa Un'osi di piacere Di relax Sono molto contenta Anche perché I tecnici della Linea Oceano Mi hanno tolto la vasca vecchia Mi hanno messo quella nuova E mi hanno lasciato tutto pulito È molto comoda Riesco a aprire la porta E entrare da sola comodamente E praticamente La usa anche i miei caratteri E adesso Occupiamoci di un tema molto importante L'installazione della nuova vasca Vediamo insieme le varie fasi Eliminazione della vasca esistente Installazione della nuova Collaudo e prove del corretto funzionamento Recupero macerie e loro smaltimento A tutto questo Ci pensa Linea Oceano La vasca Samoa Della Linea Oceano È proprio bella Ma quanto tempo ci vuole Per installarla? Signora Rosa Noi iniziamo al mattino presto Verso le 5 e le 6 del pomeriggio Abbiamo finito E della sua vecchia vasca Non resterà nessuna traccia E lei dal giorno dopo Potrà fare il bagno Nella vasca della Linea Oceano D'accordo La vasca della Linea Oceano È proprio quello che ci vuole Per la mamma Ma per l'installazione Devo pensarci io O fate tutto voi? Sa Vista l'età della mamma Non vorrei Né troppo trambusto Né troppo agenti in casa Signora Grazia Noi di Linea Oceano È da anni che installiamo vasche Con la porta E pensiamo a tutto noi Dallo smaltimento Dalla vecchia vasca Alla posa della nuova Lasciando il bagno In perfetto ordine La Linea Vasche Oceano È sinonimo di alta qualità Concepita e realizzata in Italia Da più di 20 anni Presso la nostra fabbrica Situata in provincia di Piacenza Inoltre Ogni vasca Prima di essere installata Viene sottoposta A rigorosi controlli di qualità Durante i quali Si verifica la tenuta idraulica Così come il buon funzionamento Dei suoi accessori Tipo l'idromassaggio Tanti modelli Tanti accessori ed optional E soprattutto Tante soluzioni Per far sì Che ognuno di voi Possa avere la vasca Personalizzata A seconda dei propri bisogni Delle proprie esigenze E degli eventuali problemi specifici E adesso parliamo di comodità Come potete vedere Seduta Alta E ampia Leggermente reclinata all'indietro In modo tale che la persona Sia appoggiata bene con la schiena E non possa mai scivolare in avanti Un incavo In mezzo alla seduta Che serve per l'igiene intima Stando naturalmente seduti Quindi senza il pericolo di doversi alzare Maniglioni Che servono Aiutano molto la persona Nell'entrare e nell'uscire Dalla vasca E totale assenza di barriere architettoniche Come potete vedere Io ho ancora i piedi fuori dalla vasca Mi siedo Sono già dentro la vasca Giro le gambe in questo modo Chiudo la mia porta così Faccio il mio bagno Quando devo uscire apro la vasca Mi aiuto con il maniglione O con questo Metto i piedi sul pavimento E sono già fuori Quindi totalmente senza barriere architettoniche Ma rivediamo insieme La squadra vincente Itaca La vasca adatta a tutti gli spazi E a tutte le tasche Bali La vasca ad angolo Che si adatta ad ogni spazio E ancora Capri Con le sue linee eleganti Samoa Piccola nelle dimensioni Ma grande nella sicurezza E Tonga La più piccola della linea Soluzione ideale Per ogni tipo di bagno E adesso parliamo di sicurezza Come potete vedere La leva di apertura e chiusura Della porta è esterna Rigorosamente in fibra di nylon Quindi non c'è nulla di metallico Questo perché Urtandola inavvertitamente Se è di metallo Può anche ferire la persona Altra cosa molto importante Come potete vedere All'interno le vasche non hanno Anche qui nulla di metallico Quindi anche qui Parliamo di sicurezza La porta si apre rigorosamente All'esterno Perché immaginatevi Una porta che si apre all'interno Sarebbe di intrarci La persona che deve entrare e uscire Ecco Il vantaggio maggiore Che ho avuto in questa vasca È proprio la semplicità Nella prima vasca E entrare dentro Senza scavaccare Non facendo quella vecchia Con maggior sicurezza Io entro Mi chiuso la mia vasca E mi passo il mio bagno In questo appuntamento Avete visto e sentito Tante testimonianze verità Persone come voi Che tempo fa Non avevano ancora Una vasca linea oceano Ma che poi Hanno detto sì Alla sicurezza E alla comodità Che hanno detto sì All'eleganza E alla qualità 100% italiana Che hanno detto sì Alla possibilità Di beneficiare Dei contributi regionali Fino al 60% Che hanno detto sì All'installazione Veloce e pulita Allora chiamate subito Il numero che vedete In sovraimpressione Fatelo per voi O per coloro A cui volete bene Ma fatelo adesso Quindi Aprite la porta Della vostra vasca Ed entrate nel mondo Della comodità Dell'indipendenza E della sicurezza Di Linea Oceano Allora chiamate subito Allora chiamate subito